Sotto l'arco appunto della porta del lago ci troviamo cioè la principale della seconda cerchia di mura. E' chiamata così perché esternamente si affacciava su un piccolo stagno che aveva lo scopo di proteggere le mura nel punto più vulnerabile. Purtroppo cioè col passare del tempo naturalmente è stata distrutta insomma era così altrimenti guardi. Guardate che roba. Si era molto bella. La cura e la manutenzione del lago erano affidate alle balie di Sant'Emiliano e di Matigie. Il lago fu prosciugato e riempito alla fine del XVIII secolo mentre la porta e le mura furono abbattute come l'ho detto nel 1909. Perfetto.